Bella faccia, buongiorno e buon Natale! Buongiorno! Perché ti nascondi dietro le... Oh, non ci credo! Finalmente l'hai capito che questa è la skin suprema e dovresti indossarla pure tu! Ma è questo uno specchio? Bravo, Bella Faccia, mi piace! Hai fatto veramente un'ottima scelta, ci sta! È una bella skin in effetti, hai ragione! Che cavolo è successo! Che vuol dire? Perché sei me? Che vuol dire sono te? Sei tu con la mia skin? No, io vedo solo te che sei con la mia skin? Che stai dicendo, Bella Faccia? Smetti! Oh, che schifo! È sulla mia pelle, toglietelo! Ma che sei impazzito, Bella Faccia? No, ragazzi, oggi... Che cavolo hai fatto? Ti devo ammazzare adesso? No, perché il mio corpo è sacro, però... Io ti brucio la casa! Io sono senza parole! Aspetta! Perché sono io? Perché sei... Perché io sono... Perché tu sei me? Perché tu sei me, io sono io! Perché io sono te? No, perché... No, perché... Sei io, te sei me! Calma! Calma! Cosa abbiamo mangiato ieri sera? Allora, eh... Allora, avevamo preso delle patate arrosto dal coldillazer... Ok, perfetto! Poi avevamo preso sul delivery... Oh mio Dio, oh mio Dio! E la strega ci aveva dato la pozione! No, 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 qualcuno mi deve togliere per favore questa skin! Fa troppo schifo, è troppo brutta! Mamma mia! Non posso essere uno stupido pollo che fa... È proprio brutto quel mantello sulla mia skin! Fa schifo! Tu prima di tutto ti ritieni fortunato che finalmente hai fatto un upgrade! Ah, mi devo lavare! Ti sei migliorato! Tieni, prendi questo! Che schifo, mamma mia! Che puzza! Oh! Prendilo! E indossalo! Non ci provare mai più dalla faccia! Non ci... Oh, ma... Lo senti anche tu? Cosa? Sto iniziando... Sto iniziando a percepire delle cose strane! Del tipo? Sto iniziando a vedere cibo ovunque! Ma come cibo? Lasagne! Ma io non sono così! Lasagne, bomboloni! Ripieni alla crema! Oh mio Dio! Sa perché non me ne frega niente? Sto diventando te! Oh! Non buttarlo qui! Bella faccia! Ma che cavolo... No, no, but... No, non buttarlo... Oh! Ah! Ah! Che cosa sta succedendo, bella faccia? Mi stai forse dicendo che... Io sono diventato... Te! E io sono diventato te! Oh mio Dio! Questo vuol dire che sono potente adesso! Questo vuol dire che so costruire finalmente! Oh! Non dire cavolate! Non sai costruire! Senti! Testa di lasagna! Io so costruire! Sono bravissimo! Ma pensi sempre al cibo? Ma te la smetti! Ma tu... No! Eh... Eh, sì! Aspetta! Il mio piccolo cervello sta andando in confusione! Facciamo un test! Cosa ti sembra quel portale del Nether? Quel portale del Nether? Sì! Cosa ti sembra? Eh! Ora che lo vedo bene mi sembra proprio una merendina alla marmellata! Porca miseria! Sei diventato me! Allora non si può... E a te cosa sembra invece? A me sembra un portale dove distruggere tutti! Non vedo l'ora di entrare per spaccare tutti! Porca miseria! Sei diventato me! Allora! Mamma mia! Senti! Ho un'idea! Andiamo a dormire! Probabilmente la situazione si risolverà e torneremo normali! Giusto? Eh! Io non dormo! Non ho paura della notte! Vabbè! Senti! Io dormo! C'ho sonno! Domani mi devo svegliare! Buonanotte! Stupido! Oh! Chi t'ha detto che devi dormire lì? È la mia casa quella! Via! Sciocco! Hai ragione! Vado a dormire a casa... C'è posto per te! Pollo! Via! A casa mia! Ok! Oh mio Dio! Ragazzi! Sono troppo confuso! Il mio piccolo cervellino non riesce a capire tutte queste cose! Va bene! Dormirò! E cercherò di pensare alle lasagne! Ai bomboloni! Mamma mia! Non si può mai dormire in santa pace! Tortelloni! Mamma mia! Che nottata in bianco! Bella faccia! Quanto russi! Bella faccia! Quanto russi! Dai vediamo se si sia amata la situazione! No! Mi sa di no! Mi sa di no anche a me! Allora facciamo un test! Eh! Facciamo un test! Costruisci qualcosa! Hai ragione! Se sono diventato tesoro bravo a costruire! Chi ti ha detto che potevi prendere le mie cose? Quali cose? Hai le mie cose nell'inventario! No! Queste sono le mie! No! Quelle sono le mie! Perché il corpo era mio! Le cose che ci sono... È vero! Sei proprio più intelligente e più furbo! Non mi hai fregato! Vero? Tu ora mi dai le tue! No! Non t'ho fregato! No! Ok! Perfetto! Allora! Hai ragione! In effetti dovrei provare a costruire qualcosa! Tu mi aiuterai però! Giusto? Sì! Sì! Allora! Prendiamo i materiali! Forza! Sai cosa? No! Sai cosa? Ho pensato a una battuta troppo divertente! Te la posso dire! Ok! Allora! Ascolta eh! Ascolta! Allora! Questa fa ridere! Dai! Dai! Allora! Un'automobilista si ferma per chiedere delle indicazioni! Mm! E dice! Scusi signore! Per andare all'ospedale! Ahah! Il signore risponde! Alla prima curva! Continua dritto! L'hai capita? Mamma mia! Dai costruiamo! Mamma mia! Costruiamo! Va che meglio! Allora! Pessimo! Prendo un po' di questi! Cosa vogliamo costruire? Un pozzo! Costruiamo un pozzo! Non ridete le sue battute perché poi non smette più! Mi raccomando! Costruiamo! Ho un'altra battuta! La vuoi sentire? No! Costruiamo che meglio! Cosa dicono due galline che si sono incontrate tutto il giorno? Bella fazza! Basta! E Kendall volevo dire basta! Cosa dicono? Due galline? Sì! Ma che ne so! C'è? No! Se beccamo domani! Io me ne vado! Ehi! Ehi! Io non lo conosco! Apri! Dove vai? Io non lo conosco! Dove pensi di andare? Devo farmi tutta l'armatura perché voglio andare a sconfiggere il drago! No! Ho questa voglia irrefrennabile di andare a sconfiggere! Insieme! Testa vuota! Sì! Sì! Adesso andiamo a costruire! Dai che è meglio! Costruiamo! Testa vuota! Come osi! Costruiamo qualcosa! Come osi! A me dire testa vuota! Andiamo! Io! L'innominabile! Possiamo costruire un pozzo! Un pozzo! Però ho bisogno degli attrezzi! Dammi gli attrezzi! Te li sei rubato! Fra tutte le cose che possiamo costruire un pozzo! Un migliore pozzo! Certo! Certo Kendall! Perché dobbiamo migliorare il nostro mondo! Vedi ci sono ancora troppe poche costruzioni! Vuoi sentire un'altra barzelletta? No! Bella faccia! Ma cosa ci serve un pozzo? Allora! Io voglio... Chiude una fabbrica di carta igienica! Perché? Perché... Non lo so! Perché? Perché? Andava a rotoli! Aia! Aia! No! No! Fermo! 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 Lasciami stare! Lasciami stare! Crea questo pozzo dai! Mi devi dare gli attrezzi e le cose! Gli attrezzi? Sì! Giusto! Signora Mucca! Buongiorno! È una bellissima giornata oggi! Dai! Tieni! Forza! Grazie! Grazie! Non ti pago se no! Ah no! Io non ti pago! È vero! Andiamo! Andiamo! Facciamo un pozzo! Però mi raccomando eh! Aiutami! Sì sì! Ti aiuto! Guarda la mia farm! Come funziona bene! Hai bisogno di pane? No no! Ciccio! Quella l'ho creato! No no no! Bisogno! Aspetta! Aspetta! Sai qual è il colmo per il pane? No no no! Non lo voglio sapere! Va bene! Tanto non lo sapevo! Non te lo dico! Allora! Come funziona così? Oh! Cosa? No no! Non rovinare la mia farm! Bella faccia! Volevo dire che è Endal! Eh bella faccia! Non so! Guarda! Così la chiudi! Io sai non ci capisco niente di redstone! Mamma mia! Allora! Così la chiudi! E poi devi piazzare tutti quanti i semini! Sì! Devi ripiantare! Bla bla! Sempre le solite cose! Ascolta ma questa non funziona! Le farm sono belle! Quando capirai che le farm sono belle? Ma che sono belle! Combattere belle! Che cavolo! No combattere è brutto perché rischi la vita! Devi fare le farm! Se ti bella faccia la tua farm di ferro non sta funzionando! Che idea! Ma mi stai ascoltando? Sai cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Una farm di cespugli! No basta! Una farm! Solo farm! Una farm di cespugli è utilissima! Ma come è utilissimo? Sì 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 sì! Dobbiamo fare proprio una farm di cespugli! Io me ne vado! Tu fai le tue farm stupide! No 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 no! Kendal devi stare con me! Mi devi proteggere dai mostri! Perché io ho paura! Ah adesso ti devo proteggere! Certo! Allora andiamo a costruire questo pozzo! Che cosa ci servirà? Ci servirà ovviamente il tagliapietre! Sai cos'è il tagliapietre? Non ho idea di cosa sia un tagliapietre! Stone cutter allora si potrebbe dire! No sì ci serve il tagliapietre! Stone cutter! Parla inglese una volta ogni tanto! Ma siamo italiani! Perché dovrei parlare inglese? Il tagliapietre! Tagliapietre! Poi prendiamo una fornace! Poi cosa esisterà? La scarpa chiodata! Eh? No l'alambicco! Questi sono gli oggetti! L'incudine! Il baule! Eh? Il tavolo da lavoro! Andiamo a casa tua perché io non ho niente! Sei tu il costruttore! Dai forza! È vero in effetti! Mamma mia mi sta girando un po' la testa! Non sto capendo niente! No io non sto capendo niente! No io! Vabbè andiamo a casa tua forza! Ok! Andiamo a casa mia! Allora quindi ci serve per costruire il posto... Ma vuoi sentire un'altra battuta? No no ti prego no! Cosa dicono due galline che non si vedono da tempo? Ma ancora! Ma l'hai già fatta? No questa è un'altra! Cocodè? No com'era? No non lo so! No! È da tanto che non ci becchiamo! Oh oh perché sei uscito? Basta io non gioco più! Allora! La vanilla è tua! Tagliapietre! Col tagliapietre cosa possiamo fare? Possiamo fare questi! Possiamo fare i muretti! Aspetta lo so! Lo so lo so come si fa! L'ho fatto una volta! Nella Candy Craft! L'ho fatta! Ok che cosa hai fatto? L'ho fatta dammi! Dammi! Che cosa? Dammi la pietra! Sì! Tieni! Allora col tagliapietre io la torre quella che è... Quella torre è altissima l'ho costruita così cosa pensi? Bah bruttina quella torre sinceramente! Umeosi! Oh va bene no no scherzavo! Mamma mia ragazzi è veramente proprio brutto in realtà! Allora così guarda vedi te l'ho detto che sapevo come si usava! È facilissimo usare lo stone cutter! Sai qual è il colmo per un falegname? Ma pazza smettila se no ti ammazzo veramente! Ok bravo! E mettiti quella del metto in ferro altrimenti mi arrabbio! No fa schifo la del metto in ferro! Bravo bello! Hai costruito... Bravo hai fatto della bella pietra! Bravo bravo! Muoviti! Continuiamo a farne un altro pochettino! Muoviti! I falegni si arrabbiano! Muoviti! Ah questo è il metto! Mettiamole il metto! Mamma mia ma lo vuoi capire che è sacro? Sì sì è sacro va bene! Dai vieni seguimi! Andiamo forza! Sai come si ammazza un orologiaio? Eh certo! No no dai dai risposta! Sai come si ammazza un orologiaio? Fermando il tempo! No colpendolo! Ragazzi non ridete per favore! Più ridete più lui continua! Per favore basta! Allora ho un'idea per fare questo pozzo! Dove lo passiamo? Qua direi! Accanto a casa tua! No non lo passiamo! Io non voglio a casa mia uno stupido pozzo! Sì guarda! Allora è molto semplice! Io non voglio a casa mia uno stupido pozzo! Iniziamo a scavare! Scava giù! Giù 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 giù! E poi lo riempiremo d'acqua! Non sto capendo niente bella faccia! Kendall mi serve un piccone! Mi può raggiungere? È solo questo! Eh grazie dammi! No ti tieni! È il sacro piccone! Non posso darti! Il sacro piccone in ferro! Giusto giusto! Ok allora ragazzi seguite molto bene questo tutorial di costruzione! Perché sapete io sono bella faccia! Sono bravissimo a costruire tutto ciò che so fare! Quindi facciamo così così adesso dobbiamo rompere queste assi di legno! Piazziamo poi la terra perché si rompe più facilmente! Ma cosa stai facendo? E la utilizziamo per scappare in questo modo! Non sto capendo niente! Meno chiacchiere più arrosto dai! Magari dammi una mano! Perché non mi dai mai una mano? Va bene dai tieni! Guarda è molto semplice! Ti do sempre una mano! Piazziamo! Non ti sto dando dai! È la mia mano! Sto usando una mano! Cioè stai soltanto togliendo l'erbaccia! Chi toglie l'erbaccia è una mano questa! Una bella mano! Senti! Renditi utile! Tieni! Ma poi non eri tu che ti odiavi l'erba alta 2 scusa? Chi? Tu! Ma questa è erba piccola non è erba alta! Quella là non la odiavi scusa? Sì sì vabbè ma l'importante è che non è vicino a noi! Vieni qua! Allora sai cosa? Visto che io amo il legno! Prendi! E fammi dei... Beh faccia a me però non chiama! Staccionate! La pietra non mi piace a me! No no la pietra no non mi piace la pietra! Dai dai fai delle staccionate stai zitto sono io il costruttore! Staccionate? Com'è che si facevano staccionate? Dai non sai fare neanche le staccionate! Giochi a minecraft da 9 anni non sai fare le staccionate! Eh ascolta non è che posso imparare tutto eh! Beh cos'è che sai fare allora? Combattere! Che domanda! Wow difficile combattere! Fallo tu! Ok guarda così! Mi servono le staccionate ti può muovere? Non mi hai dato abbastanza legno? Sì sì questo basta! Non capisci niente non capisci sto facendo un pozzo profondissimo! Ma io ho! Poi da qua prenderemo l'acqua piovana! Io da uno con l'acqua? L'acqua piovana! Ma non si può prendere l'acqua su minecraft! Certo che si può prendere l'acqua con il calderone! Ma ti devo insegnare tutto io veramente? Il calderone con l'acqua vabbè! Vabbè ragazzi dorme questo ragazzo veramente! Dai vai a combattere qualche coniglio! Ti sto a guardare! Non c'è bisogno di fare il saputello! Poi devi semplicemente... Dobbiamo crea... Mi dai una mano sono basso! Sei un po' basso effettivamente! Mi serve una mano! Aspetta tieni! 3, 2, 1... Aspetta! Guarda adesso facciamo il tetto! Wow che bello bella fazza! Interessantissimo! Me ne vado? Certo che sei sempre scorbutico comunque! È pazzesco! Non sei mai felice! Senti a vivere con te tutti diventeranno scorbuti! Ecco così poi facciamo il tetto adesso! Ok! Oh! 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 Senti anche tu questo formicolio! No! Cosa? Oh mamma mamma mamma! Eh ma aspetta un attimo ma tu! Tu sei me! Ma io! Io sono te adesso che ero io prima! No cioè tu sei tornato tu e io sono me! Aspetta! Fai una roba! Mamma che schifo questa costruzione comunque! Dammi quel legno che in alimentare non si può vedere quello che... Aspetta! È bellissima! Ci sta effettivamente! Guarda che fa veramente schifo eh! Aspetta aspetta! No 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 no! È fantastica! Aspetta! Vabbè vado a uccidere qualche scheletro ho capito! Aspetta aspetta aspetta! Guarda! Rimani qui con me dammi la mano! Muori stupido scheletro! Ti sto proteggendo perché tu non sei capace di proteggerti neanche dalla tua ombra! Ascolta stai capendo almeno quello che stiamo facendo! No! Che cosa stai facendo? Questo è il tetto a punta! Ok? Ma di che cosa? Lascia! Dammi lascia! Non servi mai niente! Dai dammi l'accetta! Tieni! Senti io vado a dormire! Ti passo e dopo passiamo una farm? Allora? Una farm di che cosa? Di cespugli magari! Ma la faccia! Ma a cosa serve la farm di cespugli? Ascolti cespugli! No ragazzi! Io veramente sto perdendo la pazienza! Lasciate un mi piace! Ciao! Ciao!